Benvenuti in largo Champions League! Benvenuti! Siamo già partiti 1-0 in capitano Perché fai così? Perché fai così? Largo alla Champions League! Largo alla Champions League! Largo Champions League, l'anno del triplete Benvenuti 1-0, ha segnato una promessa del calcio Il capitano a Viazzanetti, 48 anni Bellissima azione! Oh mamma mia! Abbiamo anche il calcio di rigore, ragazzi, scusate No, c'hai la faccia come il piede di Gagliani, di Gesso Che faccia devo avere? Va bene, ma dai, è una squadra di Milano! Ma che squadra di Milano? Salviamo l'Italia! L'onore d'Italia! E siamo due! Tutti in largo Champions League! Ci sono due! E siamo ancora a Brasile degli anni 70 Ragazzi, mi hanno portato il giatto cristiano Però è inutile, lo mando a casa Perché cosa viene inizio? La Voltoglio, tu dalla via che fattoria, ce l'hai? E' una super intera! Un e due, guarda! Cavolo, Zocco! Allora, il gatto cristiano, la Voltoglio Alfredo E il gufo Casimiero per l'occasione Sì, ma io non li avevo portati apposta Perché sapevo che stasera vincevano Lo ha voluti apposta, però almeno salutiamo Chi ci procura? No, salutiamo Il nostro amico Paolo Cecchi, Milanista Salutiamo Paolo Cecchi perché siamo già sul 4-0 Paolo Cecchi, Publi Magic Ma se vogliono venire anche Pompiglio e Benaglio Per completare qui Già, il Benaglio 4-3 4-3 Ma ora se perdi con un gol di scatto Adesso puoi fare le facce Adesso puoi fare le facce E ti puoi preoccupare Ma hai ragione, da 90 a 91 Oh ma, oh, io voglio solo dire una cosa Voglio solo dire una cosa Io voglio solo dire una cosa Se ne hai voluti mettere lì per fare tutta la scena E guarda! Hai ragione, ricordiamo sempre Guarda che si caccia L'hai preso in giro Casimiro Alfredo Tiè! Grazie! 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 Grazie!